Siamo giunti quindi all'atto conclusivo di questa edizione del Memorial Stella Vallone in campo. Le finaliste che si contendono quindi il trofeo di questa edizione Accademia Sport contro Real Stella. Intanto c'è Vinci all'indietro per Pardo, carica il tiro, Cesari, carica il tiro, la risposta da parte di Favero, recupera, ciuffa, Chianese, Favero, sfodra uno dei suoi numeri devianto la palla. Rosiano se ne va, da solo il tiro, bellissima azione e c'è il vantaggio dell'Accademia. Beffa Tonini, arretra adesso Chianese, pronto a caricare il tiro, c'è la risposta di Favero. Lunga per Sinceri in mezzo in area, poi rimessa in gioco, subito in avanti c'è Marino che serve Venturiero, Venturiero, la possibilità per colpire. C'è il fischio, la rincorsa di Ciuffa, il tiro. Se ne va Cesari, continua a insistere, palla buona per lui e c'è il gol di Ciuffa che beffa Favero. Si va sull'uno a uno, tocca subito in avanti Cesari, ancora continua a mantenere il possesso della sfera, poi si gira, arriva d'Angelo. Favero, vinci. Cesari, si gira, arriva d'Angelo. In rincorsa, c'è il tiro morbido, Venturiero, c'è Marino che si accentra, arriva il tiro da parte di Venturiero che si dispera per la sua conclusione. Tonini dal fondo, Cesari solo davanti a Favero, la possibilità viene fregato a questo punto. Ancora Cesari, il tiro di Bragagnolo, allontana da Favero, ripiega l'indietro, adesso Reala Stella con Pardo. Perde un'ottima occasione, c'è la possibilità per Marino di scoccare la palla in rete. Balmeggiani, calcia di prima intenzione, però mette in movimento Vinci che si addestra e poi fa partire il tiro. È in diagonale, Bragagnolo, c'è Vinci, Bragagnolo, Sinceri, se ne va Sinceri il tiro e c'è il gol di Sinceri che va a recuperare un'importante palla per l'Accademia, beffando Tonini. Cesari, recupera Sinceri, lancia direttamente dalla porta ormai sguarnita. Cesari, carica il tiro, il sinistro e c'è la rete. Arriva il triplice fischio finale, si chiude sul pareggio 3 a 3 questa finale tra Real Stella e Accademia. Sport sicuramente si andrà alla lotteria dei calci di rigori. Pronto a questo punto Sinceri contro Tonini. Il tiro e c'è la rete, 1 a 0. Real Stella contro Favero. Parte la rincorsa. C'è la parata di Favero, ma viene beffato. Rosiano contro Tonini. Parte la rincorsa. Il tiro, palla che cicca la traversa. Bragagnolo per il Real Stella. Parte la rincorsa. Il tiro e c'è il vantaggio. Mosca per l'Accademia. La sua rincorsa e c'è il gol 2 a 2. Tocca adesso a Cesari. La sua rincorsa breve. C'è la palla infilata in rete. La sua rincorsa anche per lui breve. Il tiro. C'è la rete. Parte la rincorsa. Il tiro. Fil di palo. Corsa un po' più sostanziosa. Il tiro. Fil di palo. C'è il gol anche per Marino. C'è il gol. Arriva a questo punto. Il triplice fischio finale. E con il Real Stella che vince la terza edizione del Memorial Stella a vallone.